Buongiorno a tutti, benvenuti al mio canale. Oggi voglio condividere con voi una ricetta bellissima, semplice, di facile preparazione, con ingredienti disponibili in ogni casa, utili come buffi per feste e riunioni di famiglia, utili anche per panini per le scuole e anche per i lavoratori. Seguitemi alla fine del video per scoprire tutti i dettagli della nostra ricetta. Allora, per il nostro impasto mi serve 300 grammi di farina 2.0 e 100 grammi di farina di grano d'oro. Prima cosa, prepariamo lievito. Su una ciotola metto un cucchiaio di zucchero con un cucchiaio di lievito e un pochino di latte e li lasciamo fino a che reagisci. Adesso il lievito è pronto, come vedete. Le metto in mezzo la farina. Poi aggiungo due cucchiai di olio e un pochino di sale. Poi raccolgo tutto l'impasto con il latte. Per il latte ho messo due bicchieri di latte, circa 200 ml di latte, tiepida. Adesso aggiungo due cucchiai di burro. Le metto nell'impasto e lo lavoro per qualche minuti fino a che diventa omogeneo. il nostro impasto morbido è pronto, vedete. Adesso lo lasciamo per lievitare. Allora, per il ripieno dei nostri panini, io ho le fettine di pollo. Le metto su una ciotola per condurli. Aggiungo quasi tre cucchiai di olio di oliva, due cucchiai di yogurt, un pochino di rosso e dos cammino di oliva, o l'ag02backile di oliva e un pochino di oliva di oliva e poi aggiungo soia sauce e un cucchiaio di la salsa piccante. Allora meschio per bene tutti questi ingredienti e li lascio per mezz'oretta prima di cuocerli. Io li ho preparati prima dell'impasto. Adesso friggero i fittini di pollo e per i mini pizza mi serve una quantità di funghi e le arrosto nella padella. Allora io preparo tre forme di panini significa che diviso l'impasto a tre. Allora adesso come vedete l'impasto è lievitato bene lo svuoto dell'aria che c'è dentro. Allora comincio con la prima forma che li faccio lunga. Preparo dei pallini con peso di 30 grammi. Per la grandezza io ho scelto questa misura però potete mettere quello che vi piace. Allora ora fallo prendere una forma rotonda a questo modo come vedete. Il nostro impasto è ben lavorato e facile a formare i nostri panini. Adesso il secondo gruppo e lo preparo come forma rotonda. adesso è l'ultimo gruppo. Preparo di mini pizza. A questo modo come vedete. adesso appiattiamo un po' l'impasto così non si gonfia troppo e li lasciamo lievitare per l'ultima volta prima di andare al forno. Allora finisco da lavorare le mini pizza e lo stiro con il mattarello così vieni sottili. Allora le nostre panini sono lievitate. Adesso lo spalmo con un uova, e un pochino di aceto e metto qualche simi sopra come il sesamo e lo porto al forno caldo su 180 gradi per 10 minuti. Allora per le mini pizza metto la salsa di pomodoro sopra i mini pizza. l'aggiusto per bene. Dopo aggiungo i funghi e li metto nel forno per 10 minuti. Allora dopo 10 minuti la pizza è quasi pronta. Metto mozzarella sopra e dopo la metto nel forno un'altra volta. Allora la nostra pizza è pronta come vedete. Adesso aggiustiamo i nostri panini. vedete come sono belle, cotte bene. C'ho il maionese che l'ho preparato a casa. Poi questi ingredienti. Un po' di formaggio e l'insalata e mortadella però per ripieni a scelta vostra. Adesso apro i panini a questo modo. Allora per il panino lungo ho messo i fetti di pollo con il maionese e l'insalata. però per quello rotondo metto il formaggio e la mortadella e con il maionese e l'insalata. però come ho detto a scelta vostra. Potete fare quello che vi piace. Ci sono tante scelte per ripieni. i nostri panini sono pronti davvero sono buonissimi. Spero che vi piacciono. Allora il nostro video è finito. Grazie per tutti che rimangono fino a questo punto. Se il video vi piace aspetto il vostro like sotto al video. Magari condividetelo con gli amici e la famiglia. e se sei stato la prima volta che vedi l'ionese show vi invito a iscrivervi e attivare il campanello così arrivano tutti i nostri notifichi. Vi saluto. Ci vediamo.